Questo è il terzo anno che vengo qui a Vegas come friend, un gruppo di persone che conosco benissimo, sono tutti amici, quindi per me è sempre un grosso piacere venire con Isob e con tutti i ragazzi che vengono appunto qua con il gruppo. Per quanto riguarda Las Vegas io adesso veramente sono affezionatissimo, per me è una tappa imperdibile, posso rinunciare a qualsiasi tappa durante l'anno ma mai a Las Vegas, quest'anno ho amato Las Vegas come non mai perché sono venuto qua molto prima, sono stato qua circa un mese, ho avuto modo di goderla proprio veramente a 360 gradi e in più è andata benissimo perché insomma ha fatto i team abbastanza importanti, quindi sono contentissimo. Per quanto riguarda la stagione nuova Isob sicuramente sarò presente come lo sono ormai da più anni a questa parte, da un punto di vista di schedula giocherò molto più all'estero però sarò sempre presente al Casino Perla nei limiti del possibile, insomma nei tavoli e a lottare come faccio tutti gli anni. voglio salutare i miei compagni di avventura, David, Bravin, Francesco Zollo, Roby Musu, Enrico Mosca, Ale Minasi, Max Forti e Nicola Benedetto con i quali abbiamo condiviso tutti i gioi ed emozioni qui a Las Vegas e in più il mio carissimo amico a Parma Davo Orlanini che è sempre presente vicino a me quando vado a giocare tornei importanti. Grazie a tutti!